Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con noi collaborano diversi studenti legati alla facoltà di architettura ma anche abitanti o attivisti a seconda dei progetti. Dal 2009 proponiamo la ricercazione temporiuso e il progetto si propone di utilizzare il patrimonio edilizio esistente e gli spazi aperti vuoti in abbandono o sottutilizzati, di proprietà pubblica ma anche di proprietà privata, per riattivarli con progetti legati al mondo della cultura, dell'associazionismo, ma anche dell'artigianato e della piccola impresa, dell'accoglienza temporanea per studenti e turismo giovanile, il tutto tendenzialmente sperimentando progetti di riuso temporaneo con contratti ad uso temporaneo appunto a canone e calmierato. Ho perso subito uno strumento. Oggi appunto siamo stati invitati durante questo workshop di stand by building e ci è stato chiesto, come ad altri appunto, di metterci a confronto per condividere delle esperienze, di progetti già attivati di riuso e di provare tentativamente appunto a costruire in questi giorni un'agenda condivisa di pratiche e strategie di intervento. In questo senso vorremmo ripartire da un manifesto per il riuso di spazi in abbandono e sottutilizzati, che è appunto il manifesto Rebel Italy. Noi avevamo costruito un manifesto sul riuso appunto temporaneo ancora nel 2009 all'atto costitutivo della nostra associazione, mutuandolo da altre esperienze pregresse maturate da alcuni di noi a Berlino, a Rotterdam, ad Amsterdam, a Bruxelles, esperienze anche proprio decennali. In questo senso un manifesto appunto che identificasse, non si vede probabilmente molto bene, delle finalità, un'etica degli strumenti per arrivare a dei risultati, era un aspetto insomma che dopo anni anche di prime sperimentazioni volevamo ricondividere con quella rete molecolare che citava appunto prima Alessandro Cariello, che in parte è presente quest'oggi, per cui ad esempio con manifesto 2020, con esibisco a Firenze, ma anche con altre realtà in tutta Italia, cantieri della Zisa a Palermo, spazi indecisi e quant'altro. Che cos'è Rebelitil per cui? L'idea è quella di attivare una rete aperta di realtà che si confrontano sulle pratiche di riattivazione di spazi in abbandono sottutilizzati, condividendo soprattutto delle finalità, le finalità appunto economiche, sociali e urbanistiche che si vuole appunto sottolineare, sono quella della rigenerazione urbana in termini di riqualificazione e riattivazione degli immobili, degli spazi, la sottrazione di questo patrimonio edilizio al deperimento, il contenimento del consumo di suolo, la sussidiarietà con il terzo settore, questo è un aspetto appunto su cui ritorneremo, e l'idea appunto è quello di dare fin da subito risposta, quindi un riuso temporaneo che metta subito in campo delle risposte a una domanda molto diffusa di luoghi di incontro, socialità, ma anche spazi di lavoro e spazi abitativi a canone calmierato. Alcuni punti di questo manifesto sono appunto legati al tema dell'etica, nel senso che appunto si sottolineava prima gli strumenti anche da mettere in gioco, di partner pubblici e privati, quale capitale sociale, quale capitale economico, anche riattivare per legarlo a dei progetti, ma la cosa importante che abbiamo appunto identificato, anche da alcune esperienze pregresse, è quella di capire che esiste un doubt des, per così dire, legato anche a un capitale sociale, legato al riuso temporaneo, che è quello di appunto poter dare del tempo, oltre che appunto delle risorse proprie, per riattivare subito uno spazio e ritornarlo immediatamente a una comunità come un bene comune. Quest'etica quindi parla di progetti, con le realtà anche a livello nazionale, che si basano su questo tipo di patto di scambio etico tra bene comune e capitale sociale. Si vede molto male, mi dicono, molto molto male, benissimo. Allora ritorniamo, ci sono poi degli strumenti per attivare appunto questi tipi di spazi, che vi cito, non guardate ma ascoltate. Un aspetto molto importante su cui torneremo probabilmente anche nel workshop di domani è quello di avere in ogni città una sorta di database cittadino, ma anche un database nazionale, accessibile, che provi a incrociare domanda di spazi con l'offerta di spazi. Noi fin dall'inizio abbiamo costruito appunto una mappatura online sempre aggiornabile e abbiamo raccolto anche una domanda da parte di associazioni, artisti, studenti, architetti, designer, realtà che volevano appunto fare start-up. E l'idea appunto del riuso temporaneo è di incrociare nuovi cicli di vita e quindi di incrociare questo tipo di domanda molto specifica, molto situata, con alcune caratteristiche di alcuni spazi. Per cui a livello locale ma anche a livello nazionale sarebbe molto importante che ogni amministrazione si dotasse di questo tipo di strumento e non lo demandasse in realtà alle realtà che sono qui presenti e che lo fanno in maniera anche del tutto autonoma. pur coniugandosi con una pubblica amministrazione. Oltre al tema del database accessibile per incrociare domanda offerta un altro aspetto molto importante che abbiamo sottolineato in questo incontro pubblico che si è tenuto appunto lo scorso aprile è quello che annualmente o ogni due anni sarebbe molto importante creare quello che stiamo facendo oggi delle tavole rotonde dove scambiare esperienza a livello nazionale ma anche delle tavole rotonde locali in cui proprietari, pubblici, privati e chi ha idee, proposte, risorse si incontrano e provano intorno a un tavolo a identificare uno, due, tre progetti cardine importanti da sviluppare nell'arco appunto di un anno. Questo è un aspetto appunto abbastanza comune in alcune realtà nord europee a Berlino appunto c'è questo questo strumento è già stato attivato proprio anche dall'ordine degli architetti paesaggisti inizialmente attivato da una realtà chiamata Urban Catalyst con capofila Filippo Oswald come elemento di sperimentazione è stata poi assunta dall'ordine degli architetti e paesaggisti come strumento proprio per individuare due o tre progetti focus su cui concentrare le risorse economiche e anche un capitale sociale nella città. Siamo ritornati appunto sul tema del manifesto condiviso perché ecco perché appunto anche nella nostra pratica di riattivazione poi di spazi in abbandono abbiamo anche noi mutuato poi una sorta di pocket guide poi qui ne abbiamo alcune copie dove si cerca di far capire come esistono più o meno sette passaggi per la riattivazione di uno spazio in abbandone con i principi di riuso temporaneo il primo punto appunto è la mappatura e conoscere dove sono questi luoghi a scala cittadina il secondo punto è mappare la domanda ossia le popolazioni che potrebbero avere accesso a questi luoghi un terzo punto su cui adesso torniamo è il tema dei ricicli di vita ossia come in questi spazi stand by attivare dei nuovi cicli di vita legati a delle specificità e a delle domande di alcune popolazioni come appunto studenti, associazioni, imprese e quant'altro un quarto punto molto importante su cui adesso torniamo è il tema delle architetture e infrastrutture temporane come prima appunto sottolineava il prof. Selicato il professor Selicato non tutti gli edifici sono appunto con un livello di manutenzione straordinaria o ordinaria facilmente accessibili alcuni dovrebbero impiegare delle risorse davvero eccessive con dei tempi anche di recupero davvero ingenti per cui ad esempio il riuso temporaneo che si previgge di stare nell'arco dei cinque anni non sempre è adatto a alcune situazioni appunto di degrado ormai architettonico avanzato per cui abbiamo maturato e vi mostriamo a breve appunto tre livelli possibili di intervento architettonico un quinto punto sempre molto importante invece è il livello dell'accesso a questi spazi una volta identificati i progetti dei possibili appunto fruitori e anche dei livelli di manutenzione ordinaria e delle architetture temporanee per riattivare questi spazi chi vi può accedere e come è importante creare quelli che noi chiamiamo inviti alla creatività di fatto sono dei bandi un po' più snelli con una giuria che seleziona delle proposte e poi appunto la possibilità di siglare dei contratti ad uso temporaneo che di solito sono dei contratti gratuiti ossia non esiste un affitto ma viene fatto un business plan per questi spazi e si cerca appunto no si cerca si deve ritornare delle spese di mantenimento dell'edificio ed è anche richiesto nel momento in cui si sigla il contratto di dedicare del tempo mensile o appunto pattuito con il gestore dello spazio per la cura l'automanutenzione dello spazio e del tempo per dell'attività da dedicare al quartiere e alla comunità locale in questo senso ritornando sul tema della comunità locale anche alcuni soggetti del contesto sono di solito ingiuria per selezionare i nuovi fruitori un sesto e settimo punto sono poi le fasi teoricamente che dovrebbero andare da sole ma in realtà sono le più difficili perché poi lo start up di un progetto non sarà soltanto allestire e ristrutturare uno spazio ma far fare ingresso a delle nuove realtà che da soggetti anche che non si conoscevano prima dovrebbero diventare appunto una comunità di progetto ossia man mano che il tempo passa il gestore dovrebbe avere sempre meno un ruolo guida ma le stesse realtà con il progetto di automanutenzione di attività legate al quartiere e quant'altro farsi sempre più come dire autonomo e auto-organizzato nel proporre questo tipo di iniziative settimo punto politiche pubbliche su questo punto ritorneremo anche perché appunto abbiamo capito di essere in un contesto molto all'avanguardia regione Puglia appunto da ormai quasi un decennio ha attivato il programma bollenti spiriti facendo invidia a molte regioni italiane e in questo senso insomma noi non abbiamo nulla da insegnare se non appunto il fatto che siamo riusciti finalmente tre anni fa a introdurre delle politiche di riuso temporaneo nel contesto di Sesto San Giovanni e da due anni nel contesto del comune di Milano vorremmo sottolineare oggi tre punti legati appunto alla riflessione a partire da alcuni progetti realizzati il primo punto è quello della memoria un secondo aspetto è quello come si diceva prima il tema dei nuovi cicli di vita da inserire negli edifici e poi un terzo punto che probabilmente discuteremo lungamente anche domani è il tema di quali risorse mettere in campo per la riattivazione di questi luoghi sul tema della memoria vorremmo partire da un contesto anche con un breve video legato al tema della riattivazione di quel milione e mezzo di metri quadri che ancora sono in attesa per cui in stand by sono le aree falca sesso san giovanni e che ci hanno permesso invece dal 2009 2010 di maturare diverse esperienze due progetti all'attivo uno si chiama ex breda green house dedicato appunto a artisti di land art e un altro made image legato a realtà di design e moda sostenibile e in questo contesto oltre alla possibilità di attivare due progetti di riuso temporaneo abbiamo sempre maturato con la pubblica amministrazione la volontà di tenere viva la memoria di questi luoghi come? facendo un archeo bike tour adesso qui si vede probabilmente molto in piccolo stesso san giovanni ha un patrimonio ha innanzitutto una candidatura unesco con un patrimonio di circa 39 siti di archeologia industriale in un primo momento la candidatura unesco era legata a un mantenimento di questi siti di archeologia industriale ad attività museale dopodiché dopo un dibattito piuttosto acceso anche con alcuni redattori unesco si è passato al tema della candidatura per il paesaggio evolutivo cosa vuol dire? che dei siti di archeologia industriale possono accogliere anche delle nuove funzioni temporanee e non che comunque non snaturino per carità un luogo un luogo sarà sempre la memoria appunto della produzione industriale dell'acciaio quant'altro legata alla Marelli alla Breda alle aree falc ma possono accogliere altre attività anche di tipo lavorativo o culturale vorrei far partire un video legato a questo archeo bike tour che annualmente organizziamo non so dove si faccia partire no ma dimmi si può passare un video e Musica 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 Ritorniamo alla presentazione. Forse. Dunque, perché vi abbiamo voluto mostrare anche questo aspetto dell'Archeo Bike Tour? Perché alla fine è un processo che abbiamo innescato come associazione culturale e che adesso invece ha preso piede autonomamente. Dopo diversi anni appunto il Comune di Sesto ha deciso di sviluppare adesso autonomamente una serie di attività legata appunto al tema della memoria, non soltanto di, come dire, progetto di più lunga durata legato alla candidatura UNESCO e quant'altro, ma capito che soprattutto per le nuove generazioni di bambini e quant'altro, conoscere i luoghi dove c'è stata una forte appunto produzione industriale, dove dovete immaginare che qui lavoravano circa 20.000 persone, una sorta di enorme gate community, perché questi tre luoghi di produzione, Breda, Falc e Marelli erano comunque delle cittadelle cintate, per delle nuove generazioni, diciamo, dai ventenni in giù, sono luoghi sconosciuti, non accessibili. Per cui il tema della riaprire i cancelli, riaprire le porte, abbattere le barriere a dei luoghi appunto ricchi di memoria, che è qualcosa anche di molto fisico, per cui delle passeggiate, delle gite guidate in bicicletta e non, è una sperimentazione che adesso autonomamente il comune di Sesso Giovanni sta cercando appunto di investire autonomamente. In questo senso, il tema della memoria come riapertura di luoghi, organizzazione di appunto tour, piuttosto che eventi legati alla valorizzazione territoriale, noi pensiamo che possa essere proprio una delle professionalità legate al riuso. I tre punti che oggi dibattiamo, il tema della memoria, il tema dei nuovi cicli di vita, il tema delle risorse, sono di fatto tre tipi di professionalità. Tre tipi di professionalità che potremmo chiamare come architetto o event planner, nel primo caso. Sui nuovi cicli di vita appunto sono sempre associazioni o comunque progettisti che riescono a rimettere in moto sia un progetto architettonico che un progetto di natura più socio-culturale. E un terzo punto è quello legato al reperimento delle risorse e le politiche pubbliche legate al riuso. Per cui una terza professionalità ancora. Siccome oggi, se non sbaglio, si citava anche il tema del futuro delle nostre professioni, ci sembrava molto importante sottolineare appunto questi tre possibili tipi di professionalità. Legato ai nuovi cicli di vita, che era uno degli aspetti appunto di questa nostra pocket guide, è molto importante, si diceva appunto, invece che lasciare i vuoti urbani in attesa di risorse economiche, di nuove destinazioni d'uso, in questo time gap tra una precedente e futura destinazione d'uso, identificare dei nuovi cicli di vita in questo tempo di mezzo. Per fare degli esempi molto semplici, una settimana è un tempo giusto, ad esempio, per un artista per organizzare una performance o una mostra. Due anni o nove mesi sono il ciclo di riuso che potrebbe, abitativo, che potrebbe avere a disposizione uno studente Erasmus, piuttosto che uno studente che frequenta un biennio, un triennio in università. Tre, cinque anni, da molte delle interviste, da esperienze, sono il ciclo di riuso legato alle associazioni, cioè il tempo di fare uno start-up, di insediarsi e di sviluppare dei progetti. Cinque anni sono i tempi, ad esempio, del microartigianato o dello start-up imprenditoriale, in quanto sono legati magari anche a movimentazioni merci e macchinari che comportano dei costi e quindi il rientro economico si sviluppa più con questi tempi. Conoscere i cicli di riuso ci permette di capire che, soprattutto in Italia, dove le cause, appunto, il ritardo della riconversione dei luoghi, come si diceva prima, sono molteplici, carenza soprattutto in questo periodo di risorse economiche, ma anche poco interesse di alcune aree o una scarsa accessibilità e quant'altro, ecco che purtroppo, soprattutto nel nostro paese, il ritardo nella riattivazione di ex siti industriali, commerciali, ex scali ferroviari, per non parlare del patrimonio dismesso legato alle caserme e al demanio militare, ecco che viaggiano sui 10-20 anni, per cui, diciamo, questi cicli nuovi di vita riescono ad adattarsi anche a questi tempi di mezzo. Se inseriamo in un diagramma, appunto, le varie componenti, che adesso non vedete perché è molto piccolo, però fidatevi, ve le cito velocemente, da un lato, appunto, posizioniamo le tipologie degli spazi in abbandono, dall'altro le possibili popolazioni che ne possono fruire, ecco che è importante costruire, come dire, una strategia che leghi anche i tempi di riuso, le risorse economiche, le regole del riuso temporaneo. Si diceva, appunto, adesso mi sa che è andato, appunto, il professor Selicato citava quali sono le regole anche per avere accesso a questi beni. Esistono, esistono, molte sono sperimentali, però esistono delle sperimentazioni in diversi contesti, che poi probabilmente verranno raccontate anche da altri soggetti. Che cosa vogliamo adesso sottolineare? Anche l'aspetto, se riesco a proseguire, della diversi tipi di, o livelli, per così dire, di architetture e infrastrutture temporanee per la riattivazione degli spazi in abbandono sottutilizzati. Nel nostro percorso ne identifichiamo tre, livello 0, livello 1, livello 2. Sono dei livelli di infrastrutture e architetture adeguati e commisurati al tempo e all'attività da insediare. Chiamiamo livello 0 quando si possono attivare dei progetti di riuso legati, ad esempio, a dei periodi molto brevi con degli aspetti di manutenzione ordinaria non troppo incisivi. dati i tempi brevi, le infrastrutture saranno appunto quelle appunto del primario di luce, acqua o WC che tutti conosciamo, se qualcuno ha avuto l'esperienza per esempio di un campeggio quello è un'esperienza temporanea legata a tre giorni, una settimana che attiva una serie di infrastrutture primarie tipo generatore elettrico, forno a letto da campo, WC modalità di intervento appunto con architetture più o meno scomponibili e ripiegabili e una segnaletica anche per accedere agli spazi. Questo, giusto per citare un progetto, è Casa dei Designer a Milano in un'ex stazione ferroviaria Porta Genova un esperimento legato all'associazione Esterni che annualmente organizza due grandi eventi legati al Salone del Mobile e invece al Film Festival e proprio perché questi eventi attraggono un pubblico giovanile da tutta Europa si sono sempre posti il problema anche di dove farli pernottare a prezzi accessibili per cui sono stati tra le prime realtà in Italia anche ad attivare progetti di riuso temporaneo livello zero per così dire per cui questo era uno spazio di accoglienza e salotto informale dove le realtà potevano anche chiacchierare scambiare progetti durante il Salone del Mobile e queste erano le soluzioni per il pernottamento per cui come vedete anche con materiali di riciclo o molto cheap, tubi innocenti cioè un po' anche l'estetica dell'intervento vediamo che un po' in tutta Europa e nel mondo è un po' in bilico tra situazionismo e progetti legati ad esempio al mondo della cooperazione internazionale che riusano materiali e manovalanza locale per cui c'è un po' questa estetica che ritorna in tutti i progetti come vedete insomma i servizi e anche un servizio appunto di segnaletica e di accoglienza che poteva appunto dare indicazioni su quanto succedeva in città quando parliamo di livello uno dei nuovi cicli di vita cito sempre appunto il programma Precare a Bruxelles di cui appunto Giulia Cantalupi ha potuto far parte per diversi anni a Bruxelles nel centro storico diversi palazzi erano stati abbandonati da un ceto medio spostato nella prima periferia nel suburb per cui la pubblica amministrazione si è trovata a far fronte a un forte deperimento soprattutto alla fine degli anni 90, primi del 2000 e una serie di realtà di ONG e di associazioni ha sperimentato la possibilità di riattivare questi spazi per uno o due anni dedicandoli sia a spazi abitativi sia a spazi legati al quartiere un terzo punto livello 2 del riciclo di riuso è appunto qualcosa di più incisivo ad esempio ad Amsterdam Kinetic North nella parte nord del porto un esperimento che coinvolge circa 40.000 metri quadri 20.000 al coperto e allo scoperto con interventi appunto sia di tipo lavorativo che più commerciale mi dicono che devo accelerare prima di passare all'ultimo punto Giulia vi racconta brevemente mi sa questo punto uno dei nostri ultimi progetti attivati che si chiama Palazzina 7 a Milano devo usare questo prova prova Alessandro giuro faccio brevissimo aspetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la banana sì 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 ok prova prova Ok, velocissimo, parlerò il tempo di questo video che sono 5 minuti. Per passare alla teoria che Isabella ci ha raccontato e avete visto un po' di immagini, ci tenevamo molto a presentarvi questo progetto che abbiamo inaugurato il 19 ottobre di quest'anno, dove abbiamo messo in pratica tutte le teorie di cui abbiamo parlato fino adesso. Esattamente un anno fa abbiamo fatto un workshop a Milano, al Politecnico, dove abbiamo coinvolto studenti, associazioni, artisti, gente dei quartieri di Milano e per ogni quartiere abbiamo presentato e lavorato un progetto su uno spazio in abbandono in ogni quartiere. E siamo andati a presentare la pubblica amministrazione dicendo abbiamo lavorato, fatto un progetto condiviso professionalmente con architetti e chiediamo di attivare in ogni quartiere uno spazio abbandonato. In zona 4 siamo riusciti a farlo coinvolgendo il Consiglio di zona, qua vedete un documento in cui il Consiglio di zona dice che vuole lavorare e attivare con noi questo progetto, la pubblica amministrazione, il Vice Sindaco decide di sopportare questo progetto e anche varie associazioni del quartiere. Per cui il 19 ottobre siamo riusciti finalmente a realizzare questo progetto che è solo una piccola parte del progetto iniziale, come vedete sono sette palazzine che erano le palazzine di fronte alla zona dell'ex macello dei mercati generali della carne, vabbè se qualcuno di voi conosce Milano se no un po' in tutte le città, anche qui a Bari abbiamo visto che i mercati sono stati trasformati. Queste palazzine si trovano in stato di abbandono, a parte alcune che sono sottoutilizzate, dove c'è l'ASL, e il progetto prima prevedeva l'utilizzo di tutte queste palazzine, a parte la numero 4 che attualmente è occupata da artisti e attivisti del centro sociale di Macao, per cui anche noi in una progettazione, come diceva il professore, tenendo conto del contesto, abbiamo sviluppato un progetto che tenesse conto delle necessità reali del quartiere e quindi in uno spazio che sono 100 metri quadrati al piano terra e 100 metri quadrati al piano sotto, abbiamo proposto un invito alla creatività che andrà a bando settimana prossima, l'inauguriamo, dove al piano terra sarà spazio per associazioni che lavorano, che operano nel quartiere e al piano superiore 4 posti letto per studenti per un tempo di 3 anni, che è un anno rinnovabile fino a 3, a costo gratuito, cioè non si paga l'affitto, ma si pagano le spese che sono state calcolate con un business plan e a cambio bisogna dare del tempo sia alla manutenzione dello spazio che organizzando attività con il quartiere. Come abbiamo fatto per arrivare a questo? Abbiamo coinvolto la pubblica amministrazione, l'università, gli studenti e fin da subito sia nella pulizia, quindi la cura dello spazio. Nella giornata dell'inaugurazione questo spazio è stato sede di sei mostre, in ogni stanza si presentava un progetto, sono stati fatti degli interventi visuali per dire che cosa sta succedendo qui e nella giornata dell'inaugurazione si è fatto un bike tour per questa zona di Milano che è un po' inaccessibile, nel senso che c'è una parte del mercato che è tuttora aperta, che adesso vediamo le immagini, del mercato del pesce, dei fiori, e invece c'è una parte che è in totale abbandono, che era la zona del mercato delle carni, dell'ex macello, che vedete lì in fondo, tutte queste navi industriali sono stati in abbandono, per cui appunto abbiamo, tenendo viva e presenti il tema della memoria, abbiamo ritenuto che fosse importante coinvolgere chi in questi spazi ha lavorato e vissuto e raccontasse ai nuovi studenti e alle nuove associazioni che andranno a utilizzare questo spazio che cos'era, come funzionava prima. E durante tutta questa giornata sono state coinvolte attivamente appunto sia la pubblica amministrazione che le persone che lavorano lì. Per cui c'è stato un dibattito durante la giornata che appunto si invitavano le associazioni quartiere a dire in che senso loro considerano lo spazio pubblico, perché appunto un tema è riattivare uno spazio non come appropriazione di un gruppo, ma come riapertura per la città, per cui si invitava tutti a riflettere su che cos'è lo spazio pubblico e come la temporaneità, quali sono i vantaggi e gli svantaggi per i progetti, e per cui si invitavano tutti i gruppi a riflettere su questo tema. Qui appunto vanno ancora immagini delle storie, ci raccontavano come venivano sbudellati gli animali attaccati in quella nave industriale. E appunto, adesso vi facciamo sentire... Cosa dice? ...i ragazzi in tempo riuso, i ragazzi in tempo riuso, le evidenze musiche insieme alla zona, e si andranno a individuare i quattro studenti e le associazioni. Io vi dico a tutti che il ragazzo è molto emozionato, il mio Stato sa quanto ha aspettato questo giorno. Si può fare, è molto difficile farsi da una ragione, diciamo, perché gli ostacoli sono incredibili, no? In fondo questa può apparire una piccola cosa, ma simbolicamente è molto importante. E per la nostra città il fatto che si mettano in campo iniziative di questo tipo è decisivo. Non è che si tratta di far cassa con gli spazi, questo è anche un modo per rivitalizzare il risultato economico e sociale della città, che veramente in un momento come questo non potendo avere magari altre cose, per esempio non potendo avere sostegno, incentivi, contributi pubblici, almeno può avere forse a bassissimo costo degli spazi. Ho finito, allora a questo punto blindisi tutti insieme. A questo tavolo c'era appunto il direttore del Dipartimento di Urbanistica del Politecnico di Milano, il Vice Sindaco, i rappresentanti del Consiglio di Zona e tutte le varie associazioni interessate e Sogemi, che è la proprietà. E qui appunto che meccanismi abbiamo messo in atto per quel giorno, oltre alla visita in bicicletta, appunto la mostra, il dibattito, cioè fare che... fare che quella giornata già fosse momento di apertura e poi gli spazi andranno a bando appunto da settimana prossima, il bando sarà fuori 20 giorni, per cui poi dicembre sarà il momento per organizzarsi, che le persone iniziano a prendersi cura dello spazio e poi entreranno il primo di gennaio. Ma già adesso ci sono dentro tre studenti pionieri che stanno lavorando e abitando questi spazi. Un ultimo punto, non so se si attiva o meno questo microfono, un ultimo punto su cui comunque ritorneremo tutti assieme durante queste due giornate, per cui abbiamo forse anche già rubato troppo tempo e ce ne scusiamo, è il tema appunto su quali risorse mettere in campo. Si è parlato e si è visto anche da questa immagine la possibilità di mettere in gioco un capitale sociale, fatto di cittadini, associazioni, realtà appunto che hanno dato impulso e riattivato spazi. Questi sono alcuni, ad esempio, articoli legati al tema di che cosa può essere un esperimento collettivo per la riattivazione di ex luoghi in abbandono, questo è il MAGE, luoghi che sono stati anche luoghi di scandali, appunto perché il tema di quali risorse avere in gioco per riattivare enormi spazi in dismissione, probabilmente in diverse regioni d'Italia, non so se ricordate, anche a Sesto San Giovanni, scatenò degli scandali legati a chi aveva ottenuto meno i finanziamenti, chi aveva sottratto i finanziamenti pubblici. Per cui ecco che un capitale sociale può sicuramente tamponare ed essere sussidiario in parte a progetti di rigenerazione, ma assolutamente non vuole essere sostitutivo a programmi e progetti di più lunga durata. Questo vediamo ancora, ad esempio, l'attuale sindaco che appunto dice benissimo il progetto di riso temporaneo MAGE è funzionato, lo vogliamo replicare, o ancora appunto il comune di Milano che promuove i progetti realizzati da associazioni a studenti e quant'altro. Ecco, il tema del capitale sociale è sicuramente una risorsa da mettere in gioco, però mi auguro appunto che in questi giorni si possa dibattere e, come diceva anche Alessandro Cariello fin da ieri sera, provare a fare una class session di associazioni culturali, architetti, professori universitari, attivisti e cittadinanza attiva, per capire quali risorse mettere in gioco anche a livello nazionale. Sappiamo tutti che a breve, 2014-2020, ci saranno appunto i POR, ossia dei finanziamenti, dei capitali economici legati ai fondi europei di sviluppo regionale. sarà molto importante anche identificare a nostro avviso quale dei ministri a livello nazionale sarà un portavoce perché parte di questi finanziamenti vadano a definire dei fondi per la manutenzione straordinaria degli immobili o degli spazi aperti o dei pezzi di paesaggio che stiamo cercando di recuperare. Perché per quanto un capitale sociale possa essere attivo ed essere molto efficace, e pensiamo che possa raggiungere massimo il livello di una manutenzione ordinaria, ma mai potrà ovviamente sostituirsi anche un capitale economico che deve attivarsi ed essere in ogni regione capace di appunto dare dei finanziamenti per una manutenzione straordinaria appunto di questi luoghi. Per cui ci auguriamo che questi siano i temi anche su cui ritorneremo tutti insieme. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Non so se ce la faccio. Sono Claudio Farina, da Trieste, in rappresentanza dell'Associazione Culturale Salone Gemma, che è partner dell'Associazione Capofila Manifesto 2020. Capofila nel PSO, un progetto di relazione urbana per Trieste. Fisualità. Eccoci. Dunque, allora beh, brevissimamente anch'io un ringraziamento dovuto agli organizzatori, a Small, ad Alessandro, ad Andrea e a Luigi, un'accoglienza meravigliosa, grazie, una bellissima occasione. Ringrazio anche il professor Selicato per l'utilissima prolusione. Molti argomenti che lui ha toccato sono anche oggetti della nostra investigazione. Dunque, allora, per prima cosa, sì, due parole, solo sul mio contributo. È diviso in due parti. La prima parte è per presentarci chi siamo, cosa abbiamo fatto, dove vogliamo andare. La seconda presenta quello che è il risultato della prima fase del progetto. Il progetto Spazio Opportunità è diviso in tre fasi. Sono tre macrofasi che in realtà raccolgono quelle che poi sono le sette fasi, sette punti, che sono stati rappresentati in maniera eccellente da Isa e da Giulia. Noi, per semplificare, senza volerlo, ma abbiamo, perché siamo un po' pigri, l'abbiamo raccolto in tre fasi. La prima fase è quella della catalogazione, la seconda fase, poi dopo ve lo spiego meglio, è quella del forum dell'opportunità. La terza è quella del cantiere dell'opportunità. Bene, dunque, prima parte della prolusione di questo nostro contributo. Noi ci siamo interrogati su quali sono i meccanismi che possono generare un'onda. Un'onda come allegoria di un movimento che nasce dal basso, quindi un movimento condiviso, che abbia la sua forza, la sua intensità e ovviamente che poi sappia anche mantenersi costante, nel senso che poi se quest'onda finisce, poi dopo che ne inizi subito un'altra. Quindi una costruzione collettiva di questo meccanismo, dove appunto subito si analizzano quali sono i temi e quali possono essere i problemi, come appunto si fa a generare l'onda, come si fa ad alimentarla e poi come si fa a stare sulla cresta, evidentemente. Questi siamo noi, almeno siamo in quattro, diciamo, Marco Barbariole partendo da sinistra a destra, dall'alto in basso, Marco Barbariole, Marco Svara, Christian Jugovac è il sottoscritto, provenienze diverse, diciamo ci accomuna il fatto di essere tre architetti e un grafico comunicatore, Marco Barbariole e Marco Svara sono i fondatori appunto dell'associazione Manifesto 2020, che nel programma appunto, già nel nome, individua qual è uno degli obiettivi dell'associazione, che è quello appunto di immaginare la città di Trieste nel 2020, nel famoso appuntamento che ormai, diciamo, è alle porte. Dunque, chi siamo? Beh, basta leggere cosa scrive qui. Diciamo, liberi pensatori a partire da finanziati legati ad un unico obiettivo. Diciamo, di questa cosa qui è interessante, sono dire, autofinanziati all'inizio, per fortuna, legati effettivamente ad un unico obiettivo. E quale sarebbe l'obiettivo iniziale, almeno? Quella di costruire a Trieste appunto un team, una squadra che fosse capace di lavorare su progetti di rigenerazione urbana composta da una geometria variabile di attori e che, ovviamente, avesse come campo di azione le esigenze espresse dalla popolazione. Questo è il perché di Trieste. Trieste rappresenta una città colma di potenzialità in espresse, come tutte queste Ferrari che però in realtà funzionano, nel garage, perché è anche una città poco dinamica e poco propensa al cambiamento. Pluridisciplinare è questa immagine molto, molto, molto collassiana, direi, molto collassata. Beh, anche questo perché, appunto, hai scritto lì, basta leggerlo, no? Cioè la società contemporanea richiede e obbliga a risposte di vario tipo per la soluzione dei problemi complessi. Per affrontare i problemi complessi bisogna assolutamente immaginare di lavorare anche in un modo che non è nuovo, ma che è sistematico. Il vero cambiamento è quello di lavorare in termini processuali. Qui è un po' descritto quello che è stato il nostro processo, quindi la rilevazione delle esigenze della popolazione, la costruzione di questo team pluridisciplinare, di conseguenza una scelta, una cernita dei progetti, la costruzione del network, delle risorse degli attori, realizzazione del progetto e utilizzazione, diciamo molto schematicamente. Cosa è successo? È successo che nel inizio 2011, diciamo eravamo ancora in inverno, il manifesto 2020 si presenta, fa una conferenza stampa gremitissima, dove lancia questa idea di fare un questionario tra la popolazione. La popolazione di Trieste tra i 18 e i 30 anni, poi ce n'è stato un altro tra i over 30. perché 18 e i 30 anni, evidentemente leggendo i numeri che ci sono anche sui quotidiani recentissimi, sappiamo, immaginiamo che la disoccupazione giovanile è uno dei punti più dolenti di questo momento. Figuriamoci due anni fa. Dunque, rilevazione delle esigenze, quindi diciamo questo affrontando i vari punti del processo che dicevamo prima. La costruzione del team pluridisciplinare, quindi la costruzione di gruppi a geometria variabile, con competenze diverse, quindi specialistiche nei vari punti, quindi sì, architetti, urbanisti, ma evidentemente anche sociologi, psicologi, artisti, economici, non so come si dice, economisti, ecco forse il termine giusto, però economici mi piace di più. Per poter costruire appunto dei gruppi di lavoro che possano di volta in volta analizzare e proporre dei progetti coerenti. Bene, questa è proprio un'immagine un po' politicalmente scorretta, però ci piace. Questo per un po' indicare quello che è stato il rapporto, la costruzione della rete. Sono numeri che sono vecchi, diciamo a dire la verità, andrebbero aggiornati, però questo per dimostrare, vado velocissimo, quali sono stati quindi quasi due anni di lavoro, incontrate in vario modo più di 16.000 persone. Questi sono i primi simposi in cui venivano presentati temi di volta in volta dall'associazione, venivano invitate delle persone a presentare dei temi e tutto finiva come sempre una bella festa, musica e tutto quanto, però prima contributi di gran valore e in questo caso qui è stato proprio il momento in cui il nostro lavoro si è incrociato. Questo è il conto di quelle che sono un po' le persone che seguono il nostro lavoro sui vari social. Questo è anche, sono dei numeri appunto tutti da aggiornare, solo una questione, è anche quantitativa evidentemente, non ci interessa molto il numero che è scritto lì, perché invece... Quindi è importante sapere che ci sono appunto studenti, professionisti, ricercatori che ci seguono. Poi dopo c'è il gruppo, diciamo, dei senior, tra cui immodestamente mi metto, diciamo, in mezzo, nel senso che il mio ruolo all'interno del PSO, del progetto Spazio e Produnità, è quello di direzione scientifica. La nostra presenza anche all'interno, quindi siamo stati invasivi e fastidiosi anche all'interno di trasmissioni radio e televisive, beh, siamo stati pubblicati evidentemente, e via dicendo. Bene, cosa è successo? Quindi, questo questionario è stato distribuito, questo penso si possa leggere abbastanza, questa era la composizione del questionario, quali tra le tematiche seguenti hanno più bisogno di attenzione, chi, cosa, dove, quindi chi tra anziani, bambini, commercianti, dipendenti, disabili, e via dicendo, cosa, cioè la casa, come tema, come macro, la cultura, gli eventi, l'infrastruttura, i trasporti, l'istruzione, le università, e via dicendo, dove, quindi specificando delle macro aree proprio fisiche. Quindi, oltre ai semplici dati anagrafici di chi partecipava a questo questionario, abbiamo chiesto di immaginare la città di Trieste del 2020. Questa è un po' l'esplicitazione di quello detto prima, su quale tematiche avremmo dovuto concentrare, alla nostra attenzione. Quindi, i risultati, quasi duemila schede, valide, perché poi dopo c'era di tutto e di più, evidentemente, il lavoro di schedatura e anche di spoglio, e di, ovviamente, costruzione di una microstatistica, è stato anche supportato scientificamente dalla SVG di Trieste, quindi ha anche avuto, da quel punto di vista, un supporto professionale molto importante. Quindi, dati statistici, quelli che hanno risposto, il 58%, evidentemente giovani, anzi, in realtà, queste sono le categorie di persone a cui si dovrebbe porre più attenzione. Evidentemente giovani, visto che erano giovani quelli che rispondevano, e poi via scorrere famiglia, professionalità, libera professionalità o ricerca. Il COSA, quindi l'occupazione, il lavoro in impresa, la cultura, l'attenzione per il sociale o per il tempo libero. Il DOVE, ecco che qui emerge appunto il dato che poi dopo ci ha fatto quadrare il cerchio, e che era anche scontatissimo, le aree di smesse, gli spazi pubblici, il centro storico e le periferie, cioè dove concentrare l'attenzione. Bene, a un certo punto poi tutto quanto si sedimenta e si arriva anche al momento in cui bene, abbiamo tutte queste cose qui e cosa ne facciamo. Quindi bisogna un attimo prendere una pausa di riflessione, riunirsi, fare un attimo anche di continuare a studiare, rimettersi in pace con se stessi, avere dei momenti importanti, e a quel punto poi può essere che effettivamente si arrivi a qualcosa di interessante, di concreto. E quindi la lampadina che si accende è la solita, scontata. La parola rigenerazione urbana è già stata nominata dal professor Selicato prima. È un concetto che sappiamo dovrebbe essere nuovo. in realtà non è recupero, non è riuso, rigenerazione. Qui è un po' una ricerca etimologica che il buon Marco Svara ha cercato di così di focalizzare. Il prefissori fa diciamo ha anche una valenza un po' se vogliamo conservatrice, se vogliamo. c'è il fatto di ritornare indietro però nello stesso tempo ha anche la posizione di reciprocità, di rinnovamento, di passaggio ad un'altra posizione, di ricollocazione. Vabbè, il termine generale sappiamo cosa significa. Noi però ci siamo concentrati anche su quelle che sono le definizioni di rigenerazione urbana condivise a livello europeo evidentemente. La rigenerazione urbana non è recupero, non è recupero edilizio, non ha niente a che fare, questo lo sappiamo. O perlomeno il recupero fisico dell'edificio è solo uno degli obiettivi, dei risultati che uno si depore quando parla di rigenerazione urbana. E' quindi un metodo che intreccia appunto pianificazione, quindi con strategia e progettazione e comunicazione. Soprattutto è appunto un'attività che affianca al recupero fisico dell'immobile interventi di natura culturale, sociale, economica ed ambientale. Sappiamo che la sostenibilità non è un concetto che va applicato solamente al campo ambientale. se non ci sono questi caratteri quindi natura culturale, sociale, economica ed ambientale non esiste la rigenerazione urbana, si parla di altro, ristrutturazione urbanistica, quello che volete, lo sappiamo tutti, questa qua. E quindi la rigenerazione urbana è un processo sostenibile e sì, questa definizione qua va un po' stretta in realtà, cioè è stretta, io ci passerei oltre. Quello che è importante è che in questo momento di dibattito in cui appunto l'onda è molto alta, sappiamo che anche a livello istituzionale c'è una macro attenzione, c'è una grande, potrei dire, sovraesposizione sul tema, cioè il fatto che esista il progetto riuso che è sostenuto dall'Ordine degli architetti nazionali, piuttosto che dal Lance, piuttosto che dal Lega Ambiente, piuttosto che e piuttosto che fa temere come succede sempre in questi casi, non perché loro lo sostengono, il loro progetto lo conosco e lo condivido, fa temere però che poi questa cosa qui diventi effettivamente un prodotto, un prodotto, una cosa commerciale, cioè la Green Economy insegna, no, cosa significa. Quindi a quel punto tra l'altro per inciso è divertente se vogliamo definirlo così che riuso, cioè il progetto riuso metta nell'acronimo anche la parola sostenibile, cioè rigenerazione urbana sostenibile, cosa che per chi appunto non sappiamo che è un di più, no, cioè c'è rigenerazione urbana, abbiamo visto prima, però tanto di cappello per l'iniziativa. Quindi perché questa cosa qua non diventi semplicemente un'etichetta, perché non diventi una cosa da salotto, noi ci siamo sporcati le mani e abbiamo lanciato il progetto Spazio Opportunità. Parte due anni fa, all'inizio con una partenza molto diesel, abbiamo costruito faticosissimamente un percorso istituzionale per cui dalla rilevazione delle esigenze abbiamo immaginato di costruire la mappatura, la prima fase del progetto Spazio Opportunità è stata finanziata dalla fondazione Cassa di Risparmio Locale di Trieste ed è partita in convenzione con la provincia di Trieste e con ovviamente i vari patrocini e sostegni che non servono a nient'altro che appiccicare lì lo scudetto che però in certi contesti serve. Purtroppo bisogna dire che in questi casi qua lo scudetto è utile ma non basta, lo sappiamo benissimo. Quindi i partner principali di questo progetto sono la provincia di Trieste e il finanziatore principale è unico anche la fondazione Cassa di Risparmio. Dunque qual è appunto l'obiettivo principale? Quello di facilitare l'inserimento lavorativo e la nascita di nuove attività imprenditoriali all'interno di spazi inutilizzati e sottilizzati. Beh la vision è quella che la popolazione attiva perché la popolazione io mi sono sempre un po' opposto al giovanilismo visto che non sono più giovane mi sento anche piuttosto vecchio se devo dire la verità visto che appunto non ho più l'età in cui posso definirmi giovane e quindi è giusto la nostra vision è quella di favorire l'inserimento lavorativo e è anche un auspicio che la popolazione attiva sia giovane che non giovane non debba lasciare la città per per affermarsi questo è lo screenshot della pagina facebook questo un po' la vado velocissimo perché così racconto ancora fa parte anche questo della cronistoria il gruppo facebook come potete immaginare è è sede di di tutto e di più di frizzi e lazzi di giochi e di litigi il gioco principale era quella di postare una volta al giorno un edificio questo è un lavoro che marco svara ha fatto veramente per tantissimo tempo poi buttando il sasso nello stagno mettendo delle cose improbabilissime come proposte per vedere cosa succedeva in effetti poi succedeva come in questo caso un po' di tutto veramente proprio litigi fantastico è una cosa anche per capire qual è il diciamo il polso in questa situazione qui andiamo ad analizzare le tre fasi del del PSO del progetto spazio opportunità quindi la fase prima è il catalogo degli spazi opportunità costruito in forma di applicazione web multipiattaforma la nostra applicazione web multipiattaforma risponde a due esigenze una quella che benissimo esplicitava prima Isabella per quanto riguarda il discorso della mappatura la seconda quella che altrettanto eccellentemente è stata caratterizzava l'intervento del professor Selicato la costruzione del contesto quindi noi abbiamo un'applicazione che viaggia su due scale la scala edilizia e la scala urbanistica per fare questo lavoro abbiamo costruito ho immaginato tre categorie di edifici che poi rispondono anche a quel discorso del tempo dell'attesa fondamentale non so quanti di voi lo sanno ma i tedeschi chiamano Zwischennutzung il termine con cui si dice riuso temporaneo quel Zwischen vuol dire di mezzo vuol dire uso di mezzo uso nell'intermezzo quindi il tempo dell'attesa è quello che è fondamentale quindi proprio per questo motivo abbiamo catalogato gli edifici secondo queste tre macro categorie le rovine che evidentemente non serve spiegare cosa significa l'abbandono quindi edifici cielo-terra terra-celo meglio per dire vuoti quasi pronti all'uso cioè basta fargli allacciamenti ai vari erogatori di servizi una mano di bianco e siamo pronti e poi invece l'unutilizzo sottutilizzo che è quello appunto che si presta evidentemente ancora più facilmente a questa operazione questo per anche stabilire dei parametri su quelle che sono le risorse in termini temporali e evidentemente economiche e di vario tipo da investire cioè è chiaro che andando dalla rovina sottutilizzo cioè inversamente proporzionale più nella rovina meno nell'unutilizzo sottutilizzo dunque la mappatura con questi tre tipi queste tre macro-categorie a un certo punto questo è uno screenshot dell'applicazione il 19 di novembre quindi fra un po' di giorni verrà pubblicamente annunciata meno male a Bemus Papam dopo due anni finalmente questo qui mostra ancora tra l'altro una versione beta 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 nel senso che posso vorrei adesso entrare un po' nello specifico di come funziona questa applicazione perché è utile saperlo quindi noi abbiamo come si diceva due scale la scale della mappatura questa costruzione del database è in maniera molto molto semplice basata sulle mappe di Google quindi abbiamo la mappa su cui abbiamo fatto planare una serie di livelli il primo e il più importante è quello degli spazi opportunità che appunto si dividono in tre macro-categorie e poi ci sono i livelli del contesto quindi muoversi quello che riguarda evidentemente la mobilità ospitare produrre l'ouazir che poi ahimè abbiamo dovuto cambiare perché non piaceva questo francesismo a noi invece faceva impazzire e poi imparare l'ouazir è stato però anche altrettanto secondo me tradotto mi sono impuntato e quindi viene tradotto in ricrearsi la ricreazione quindi ognuno di questi poi dopo vedremo attivando i vari livelli si hanno le varie funzioni poi c'è una categoria extra dove va inserito quello che effettivamente non esiste oppure sono delle letture della città fatte in maniera un po' poco ortodossa quindi è ospitare questi sono invece la maniera ortodossa quindi gli alberghi gli ostelli dormitori e via dicendo muoversi i parcheggi la mobilità ciclopedonale il traffico limitato il cascine bla 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 il produrre le zone industriali il computatore di impresa le aree di ricerca e via dicendo imparare asili scuole università e lo sappiamo e l'ouazir sport ricreatori musei gallerie teatri parchi bla 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 bene quindi in questo in questa schermata noi abbiamo uno zoom sulla mappa dove vediamo alcune alcune rovine perché gli X sono le rovine inserite nel contesto in cui si vedono per esempio i parcheggi delle biciclette dove sono degli stalli non fatevi ingannare in realtà noi abbiamo fatto ahimè un lavoro che è utile però è in prospettiva nel senso che molti di quegli stalli stanno all'interno del piano del traffico che è stato appena approvato e sono in progetto però noi li abbiamo inseriti evidentemente specificando poi ognuno di quegli di quegli in termini tecnico imparato che si chiamano poi point of interest sono attivi cioè andandoci sopra viene fuori la scheda anagrafica e quindi ognuno di quelle biciclettine lì viene fuori che è un progetto poi c'è la scheda dell'edificio c'è l'altra scala la scala quindi edilizia a questo punto vado velocissimo la scala edilizia per ogni edificio per ognuno di quegli edifici noi abbiamo di quegli edifici abbiamo fatto una sorta di anamnesi quindi che si conclude con una cartella clinica cartella clinica che dà proprio lo stato dell'arte relativo all'edificio preso in esame quindi si parte con l'anagrafica con i vari dati dimensionali se ci sono dei vincoli di che proprietà l'anno di costruzione quanti piani il numero dei vani c'è una 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 galleria fotografica degli interni degli esterni e dove si poteva anche degli interni ci sono informazioni urbanistiche architettoniche quindi la destinazione d'uso del piano regolatore vigente quanti piani all'edificio la descrizione dell'eventuale vincolo secondo la legge di tutela sui beni ambientali architettonici e poi una cosa importante che abbiamo introdotto la percentuale del degrado basata su cinque parametri che sono copertura strutture impianti finiture e infissi in base a incroci e medie ponderate tra il degrado di ognuno di questi parametri poi dopo si dà ognuno con pesi diversi evidentemente la copertura ha molto più peso per esempio delle finiture questo è scontato si dà poi la percentuale di degrado del sottutilizzo più è alta evidentemente più sono ingenti le risorse da investire poi riguardo alle informazioni tavolari catastali e questo è la cosa importantissima il primo grado di interazione quindi chiunque può interagire mandando scegliendo poi per varie opzioni rispondendo alla questione sarei in grado di partecipare attivamente all'attivazione di questo spazio mettendo in gioco evidentemente può mettere in gioco risorse economiche competenze lo spazio essendo il proprietario un'idea il tempo il mio sostegno questo spazio potrebbe diventare un'opportunità e quindi un valore per e quindi per la mia attività personale per la comunità per il territorio regionale l'area meteroeuropea o d'altro fatto questo primo grado di interazione noi saremo in grado di raccogliere dei dati per quanto riguarda la seconda la seconda fase la seconda fase andrò veramente velocissimo scusami Alessandro però devo finire questa cosa qui poi vi lascio la parte ultima la saltiamo la seconda fase è il forum dell'opportunità che è quella in cui tutti i dati di incrocio della domanda dell'offerta vengono elaborati in tavoli di lavoro ai quali vengono invitati evidentemente tutti i portatori di interesse che sono evidentemente i proprietari i finanziatori chi ha l'idea imprenditoriale da questi da questi tavoli di lavoro se ne esce solo ed esclusivamente con un business plan di attività che dimostra la sostenibilità dell'iniziativa il terzo il terzo punto manca mi dispiace ma comunque sarebbe quello del del cantiere dell'opportunità che evidentemente sarebbero dei laboratori urbani in cui progetti selezionati dai tavoli vengono realizzati attraverso processi partecipativi quindi concorsi piuttosto che lavoro dal basso autocostruzione e quant'altro per realizzare dei 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 prototipi per verificare anche diciamo la validità di questo tipo di azione sì questo sono una visione in prospettiva che un po' è quello cosa ci piacerebbe fare da grandi cioè quello di costruire una fondazione di partecipazione ci stiamo lavorando con con l'azionariato sociale il più altro che è quello fondamentale appunto che è la partecipazione pubblica privata per la creazione di un soggetto ibrido anzi in realtà scusatemi c'era anche il cantina di opportunità progetti pilota sperimentali bene questo possiamo saltare semplicemente era un ma scorrendo velocissimamente sappiamo che sono dei consigli più che altro che noi ci siamo dati per quanto riguarda l'azione sul campo quindi lavorare sul contesto e evidentemente limitare autolimitarsi a quelle che sono le risorse disponibili la costruzione del network anche questo la diversificazione dell'azione lavorare per parti però avendo in mente il disegno del tutto porre l'attenzione massima ai corsi di gestione evidentemente creatività innovazione ricerca come parole d'ordine lavoro artigianale Richard Sennet come Bibbia messo vicino al comodino e questi siamo noi grazie 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 grazie